Con gli occhiai va benissimo Una canzone qualsiasi? Ma, senza Guarda la macchina Mi vuoi accompagnare? Grande Sergio Guarda la macchina Non faccio animatore ma cerco animatori Cerchi animatori, allora andiamo bene Benissimo E poi cerco animatori, poi ci facciamo da indire Sì 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 Torniamo indietro Ci abbiamo qui Pierini ragazzino E' la cicogna che sta portando Ma che buona Ma che ti è rimpedito E mamma mia Questa cicoglio sta cazzo Come canzone Ma pure tu e papà non siete bambini Ahia papà Vedi che fa un cazzo sulla tua strada? Miau E' una rapina organizzata, è certo, è il doppio E' una rapina Ogni tanto lo dà la corda a mia moglie Che sta dormendo Con il tuo sole Vedi che non! Let me subito! Scusi il cavallo! Ma raga! Pronto Ringo, ora in cappuccino! Ma che ne spresso? Ah non è, ma chi ha tirato la patente? Ma chi ti ha detto che c'è l'ho? Si incontrano due cazzaforti, ma che combinazione! Assia, te saluto! Ma non fai qui l'animazione? C'hai il posto? Per mondo convenienza! Dove? Per mondo convenienza, le ragazze davano i palloni? Ma ti ringrazio! Ah è vero, mondo convenienza! Noi seguiamo! Pensa siamo pure i clienti! Si! Ma ci stanno i bambini, mondo convenienza! Te la cucino io! Capito? Ma sai una canzone del genere! No, mi piacerebbe! No, non la ricordi! Te la cucino io! La convenienza! Mondo convenienza! No, mi piacerebbe fare qualche ricamere! Qual è? Cosa c'è? Non vuoi il telefono? Non c'è? Ci abbiamo il vietro da visita! Ok! Un po' almeno! Un po' almeno! Un po' almeno! Cosa c'è?